Matteo, perché a Reggio Emilia e perché questa esibizione per il Grade? Sono qui in rappresentanza della Nazionale Cantanti. Il Grade è una onlus che si occupa di fare del bene, di fare solidarietà attraverso la scienza. Era bello poter cantare, poter prestare la mia voce e dare un piccolo contributo artistico. Ho dato, il pubblico risposto molto bene e sono stato felice di esserci. Tra l'altro, come Nazionale Cantanti, abbiamo preso un impegno importante che è quello di realizzare nel 2013 a Reggio Emilia una partita, un concerto per sostenere le attività e i progetti di Grade.